Apriamo due super container e poi andiamo a vedere la nave di oggi Ecco, solite bandierine che non servono a nulla Acciaglio, magari La nave di oggi è l'incrociatore Schröder Sebbene ricordate lo portai pronti via quando fu rilasciato Nella costruzione appunto della nave E lo criticai dicendo che comunque non aveva molti punti vita rispetto al ruolo che doveva svolgere Però adesso la situazione è cambiata È cambiata perché hanno aggiunto una skill che vedremo a breve D'accordo, comunque andiamo a mettere tutto quello che serve per il nostro incrociatore Qui in realtà io vado a preservare le secondarie Secondarie che le vedremo a breve sono molto efficaci Potreste mettere anche armamento principale modificato 1 Però non ho verificato nessuna incapacitazione D305, sarò stato fortunato probabilmente Quindi potete mettere tranquillamente il primo modulo Per il secondo qui scelta Che io ho messo Sono andato a mettere la sovralimentazione modificata 1 Una nave abbastanza veloce 34.1 Con un bonus del 15% Quindi la nave risulterà essere ancora più veloce D'accordo, ottimale Questo discorso per posizionarsi per tempo Poi secondarie sovralimentazione Ancora mimetizzazione aggiuntiva E qui scelta azzardata Di mettere armamento ausiliario modificato 1 Quindi me la gioco tutta Sulle secondarie La resistenza rimane di 59.300 punti Che in realtà L'integrità va anche bene Attenzione, come punti vita potremmo anche esserci Però il ruolo che dobbiamo svolgere È ovviamente riuscire a utilizzare Le secondarie, d'accordo? Quindi più punti avete Più punti potete dare nel combattimento E le secondarie spareranno per più tempo Comunque sia Al netto di tutto abbiamo i 305 Dei 128 e dei 150 Che penetrano 32 E poi 38 Con una ricarica che scende A soli 2.3 secondi Mettendo questo potenziamento Ricerca edrofonica tedesca ottimale La sovralimentazione l'abbiamo vista Il recupero vita E ancora Squadra controllo danni Mettete tutte le banderine che vedete E in più abbiamo la possibilità di attaccare I sommergibili con le cariche di profondità Abbiamo inoltre una difesa contraria Con un 382 e un 1771 Con 6 esplosioni che derivano Dal più 2 del potenziamento Altrimenti avrete 4 di base E ancora La cosa che più mi sorprende di tutte Veniamo spottati A 10.2 km Ok E le secondarie sparano A 12 km Nel gameplay Vi spiego Come gestire Questa cosa D'accordo Capitano Gli utenzi obbligatori Se non avete questo capitano La nave non si può utilizzare Non serve a niente Per vari motivi Il servente batteria secondaria È essenziale Ok Meno 15% Al 2.3 Rotazione Delle torrette Qui Io ho messo È un po' che non gioco questa nave Specialista di consumabili Va bene Il bersaglio prioritario Va benissimo Lui consiglia Consumabili migliorati Ci può stare Ma alla fin fine Quel 10% Partiamo di pochi secondi Sovrintendente Va benissimo Scarica di adrenalina È obbligatorio È ancora Devastante Portata Batteria secondaria Più 20% È qui Che la situazione Cambia radicalmente Per gli incrociatori D'accordo Ancora di più Per determinati incrociatori Come lo Schroeder Che finalmente Si potrà utilizzare In maniera un pochino Più Interessante Artigliei di primo grado Ok Tempo di ricarica Della batteria secondaria Ancora Meno 10% Che abbiamo appunto Scendo a 2.3 È esperto di occultamento Così facendo La nave risulta essere Molto efficace In partita Proprio perché abbiamo Una bassa rilevabilità E delle secondarie Che sparano Fino a 10 km E penetreranno Efficacemente L'avversario Andiamo a mettere Bonus economici blue Per massimizzare il tutto Visto che siamo Un incrociatore premium E ancora Per quanto riguarda La mimetica Abbiamo i colori Di guerra Ovvero la mimetica Proprio dello Schroeder Cos'altro dobbiamo dire Signori Mi raccomando Il mi piace Tattico Per aiutare il lavoro Che porto sul mio canale YouTube E per aiutare la baracca In generale Se volete provare il gioco Completamente gratuito E siete nuovi sul canale Trovate il link In descrizione Che vi darà alcuni vantaggi Per iniziare la vostra Avventura Su World of Warships Andiamo a giocare Una partita Con lo Schroeder Via Andiamo a giocare Una partita Con la nostra Nave Tedesca Siamo in una mappa In frantumi Battaglia Standard 5 corazzate 3 incrociatori 4 cacciatorpeniere 4 cacciatorpeniere Addirittura Non so perché Veramente C'è questo concetto Di mettere Così tanti cacciatorpenieri Secondo me Il limite dovrebbe essere 3 In tutte le modalità Punto Non 5 Non 4 3 Ok Anche perché Spesso e volentieri 4 cacciatorpenieri Vengono Associati Insieme A un Sommergibile Eh sì Eh buonanotte Allora in realtà Qua noi potremmo Però mi devo fidare Dello Stergotland E io non mi fido Di nessuno Già di natura Figurati in un gioco Se mi dovessi fidare Di qualcuno Non esiste Io mi fido solo Di me stesso E così Dobbiamo vedere Se l'Ostergotland Riesce Quanto meno A spot Io metterei Le HE Perché secondo me Il primo scontro Sarà proprio O con un Tashkent Bello largo Visto che è veloce Oppure Insomma Vediamo cosa Incontra Lo Stergotland D'accordo Facciamoci trovare Pronti All'appuntamento Ma comunque Abbiamo messo il boost Prendiamo posizione Con l'isola In un primo momento Volevo posizionarmi In questo In questa zona Della mappa Però ho detto Poi lo Stergotland Sta da sole Ok Vediamo La bassa La bassa rilevabilità Dovrebbe consentirci Di avvicinarci Per tempo Senza Essere Visti Abbiamo anche Comunque La Thunderer Che può Distruggere Può One-shotare Un cacciatore Peniere Con le proprie HE Il problema È capire Se la corazzata Spara il cacciatore Peniere Perché nel 90% Dei casi 90% Dei casi Non lo fanno E insomma Non va bene Dunque Vai avanti tu Eh no Eh no Eh no Marco Polo Proprio no Marco Polo Proprio non ci piace Però lo Jäger Già sì Ricerca Agrofonica Ah il tiro L'ho fatto Un po' più stretto E lo vado a mancare Una perforazione Tra l'altro Perché lo Jäger Viene visto Da casa sua Ha 5-4 Di spot Non ha forse Tutto Wow Io sto sparando Non so voi È morto Eh raga Però se sparo Solo io Cioè Bombe Allora Vi spiego Questa meccanica Del gioco Che forse È oscura A molti Nel momento In cui le mie Secondarie Sparano Ovviamente Aumenteranno La rilevabilità Della nave A 12 Però se la nave Riesce a rimanere Nascosta E le secondarie Sparano Non verremo Spottati Quindi il gioco Non mi andrà A penalizzare Da questo punto di vista D'accordo Dobbiamo capire Come intervenire Dobbiamo fare Molta attenzione Nelle valutazioni Perché Comunque Siamo anche Contro supernavi Che mi possono One shotare Quindi io me la giocare Molto safe E poi Insomma Vediamo Adesso lui Andrà in sliding Sul bordo Mappa Quindi mi conservo Il tiro Va benissimo Così Un pochino Più indietro Vabbè Affrontare Una Satsuma Sinceramente Non è che Sono molto Contento Di questa cosa Dobbiamo capire Come fare Danno Uh La Borgogna È stata Colpita Pesantemente Oh Ancora Le HE Sto giocando Molto con le HE Perché Lo Stergotland Ha tutto questo Coraggio Lo Stergotland Che bello Aspetta A destra Secco a destra Spengo Le mie secondarie Altrimenti Mi aumenta La rilevabilità Per il discorso Che ho fatto Prima Ma va Grazie Di avermelo detto Però lui Ha sparato Oh Ho premuto Così veloce Da attivarlo Disattivarlo Allo stesso tempo Sinceramente È un lavoro Che Allora Mettiamo anche il busto Perché voglio più Manovrabili Più potenza Mentre faccio Determinate manovre Allora Allora La Borgogna La mandiamo in acqua La Satsuma Mi preoccupa Che ha letto La mia virata Non ha letto nulla Perché manda in acqua La Borgogna È il bersaglio ideale Per questa cosa Andiamo avanti La Borgogna Non ha i 406 Fa fatica Almeno un incendio Perché aumento Il danno Da quel punto di vista In quel modo Lì Servirebbero le AP La verità Eh Ma è proprio Sincero Ma l'ha letta No Voglio rimanere operativo Sparando con Le HE Sulla Marco Polo Qui ne ha un solo Giondo Evite Che si allontana Purtroppo In retromarcia Non riesco a stargli dietro State vedendola Cioè Le secondarie Ve le sto facendo vedere Il più possibile Un incendio Mi servirebbe Però fra Abbiamo fatto una kill Sì Almeno una L'abbiamo fatta Sto giocando molto Le HE Veramente tantissimo Le HE C'è L'incrociatore Che dipende Non c'è problema Forse questa volta Mi prende con le bomba Però Mi fa anche male Vabbè Ero diventato prevedibile Andando sempre così Troppo prevedibile Non sparano più Nel momento in cui Le secondarie Non sparano più La nostra nave Di mezza Di mezza letteralmente La sua potenza di attacco Qua speriamo In un incendio Che non arriva Ne ho fatto 92 Che non è Tanto la verità Proviamo un colpo Disparato Sulla Marco Polo Per aumentare il danno Lindenburg Dovrebbe essere E chiusa Tra Insomma Ci abbiamo Tutto il mondo Praticamente A difendere Vediamo se riusciamo Ad aumentare Di nuovo Il nostro danno Con le secondarie 135 colpi La strava Che detona No ma le banderine Non servono In questo gioco E poi succedono Queste cose Sì Io a questo punto Puscerei Anche se Non è proprio Una cosa Come dire Molto sicura Però Voglio fare almeno 120 La Satsuma Non mi spara Con le HE Purtroppo Soffro molto Soffro molto Con le HE Io sto volutamente Pushando Per cercare Un danno Maggiore Voglio che sia chiaro Questo concetto Però così John DeVitt Ti prende una legnata Di secondarie Che non finisce più Via l'incendio Vado a prevenire Anche l'incendio Delle bombe Eventuale Troppe bombe Mi sto prendendo Eh mo' mi da l'incendio Di nuovo Eh sto seguendo Una linea Che è facile Per lui prevedere Però Ho accelerato La nave È molto veloce No frati Devi spostare Va bene In realtà qua Servono le AP Qua mi massacra Qua mi apre In due Ok Però ha sparato Ci mette tanto A ricaricare Apriamoci Ho le AP pronte Via l'incendio E vira la secca A sinistra Boom GG Bella 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 Grazie Sì Tranquilla Nulla di particolare Spariamo ancora Con le AP L'abbiamo sfruttata Cioè più di così Non si può sfruttare La nave Forza Molto con le AP Molto con le AP E qua però Non c'è che mi chude Opla No Incredibile Va bene Thanks Bene Mi son divertito Però devo dire una cosa Posso dire una cosa Lo sai che loro mi hanno sottovalutato Loro mi hanno sottovalutato Perché hanno detto Eh ma non mi fa niente No No Gravissimo errore Gravissimo errore Perché se avessero voluto Mi potevano anche Focusare maggiormente Ok Però mi hanno sottovalutato Questa è stata Proprio Mi hanno sottovalutato Mi son preso un po' di Bombe Mi sono preso Tante bombe Dal Dal coso Lì come si chiama Dalla Jean DeVit Perché effettivamente Mi son preso tante bombe E il danno si è sentito Ok Però non abbiamo fatto poi Un discorso di secondaria Ho sparato molto le HE E non sono stato premiato Come avrei voluto D'accordo Comunque Vediamo cosa facciamo Qua potevamo fare anche un Kraken Per assurdo Comunque Driddenhout Esperto del combattimento ravvicinato 211 colpi Da armi secondaria Secondo me qui abbiamo fatto Almeno Almeno Un 40 50 mila Danno solo da secondaria Minimo Per quanto riguarda La posizione Eh signore Abbiamo combattuto Contro navi di livello superiore Contro una 10 Contro una Super nave Quindi Se non mi paga qui Un 2000 Mi sono emozionato 2000 No 3000 no Non sono queste La partita da 3000 Però potremmo stare Sul 2005 Non è durata tanto La partita in realtà Me la penalizza Questa cosa 2003 2003 primi 2082 Me l'ha pagata Solo 2082 Avevo detto 2003 avevo detto 2082 Ma quanto è durata La partita Scusami 12 minuti Poco Danno causato Dalle secondarie In realtà abbiamo fatto 65.000 Beh effettivamente 40-50 Era poco Abbiamo fatto 65 da incendi Solo 28.790 Con le principali Con le HE Ho insistito Forse troppo L'ho detto più volte 30.000 Con le AP 7050 Abbiamo distrutto Praticamente Tutte le navi Che abbiamo fronteggiato Tranne la Borgogna Che a un certo punto Ha capito Che subiva Tanti danni E si è Allontanata E l'hanno chiusa I nostri alleati I crediti Levate le varie spese Portiamo a casa 1.669.000 Con il premium Al netto di tutti i bonus Senza premium E al netto dei bonus Avremmo portato a casa Comunque 1.087.000 La nave La nave Praticamente Attualmente Con questa configurazione Che può sparare Fino a 12 km Guadagna molti punti D'accordo Perché io l'avevo criticata In passato Dicendo Ha pochi punti vita Per il ruolo Che deve svolgere Rimango dell'opinione Però adesso Ripeto Avendo una gittata Maggiore Che puoi gestire In base alle esigenze Il discorso cambia D'accordo Perché comunque Sono colpi che vanno a penetrare Sono colpi che fanno male E di conseguenza Il nemico Può essere bravo Quanto vuole Ma non riesce A tancare il mio danno Dobbiamo essere bravi Però noi A metterci In una situazione D'accordo Ideale Ci apriamo questo Super container E direi che Dobloni Mille dobloni 7 giorni premium Eh sì Effettivamente Ne avevo bisogno E quindi È una nave Che guadagna Molti punti Però considerate Che dovete Valutare sempre Caso per caso Dovete conoscere La vostra nave Le navi avversarie Dovete capire Quanto potete rischiare E di conseguenza Agire Lì Secondo me I nemici Semplicemente Lo ripeto Per la quarta volta Mi hanno sottovalutato Ma non come giocatore Proprio come danno Che la nave Poteva fare Tanto è un livello 9 Spara 2 secondarie Ma le secondarie Signori Fanno malissimo E soprattutto 2.3 secondi Più il bonus Più scarica di adrenalina Praticamente È una pioggia infinita Di colpi Che riescono a penetrare 32 Per non parlare Dei 150 Quindi Se vedete una nave Del genere Non sottovalutate La situazione Altrimenti Vi ritrovate I punti vita Che scendono Rapidamente E poi Con un colpo di AP Un colpo di principale Venite distrutti Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao 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 Grazie per la visione!